allora salve a tutti sono sandro schiariti e preparatevi alla prima puntata del mio podcast vi parlerò di marketing sì saranno cinque puntate dove io mi impegnerò a darvi una mano per sviluppare il vostro fatturato nel vostro negozio nella vostra bottega nella vostra attività seguitemi sui miei canali buonasera a tutti parliamo di marketing e andiamo a tradurre proprio il significato della parola marketing si riferisce al processo di pianificazione implementazione e controllo di strategie volte a promuovere prodotti o servizi al fine di soddisfare i bisogni e i desideri dei clienti mentre allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi aziendali questo convolge l'analisi di mercato la definizione del target di riferimento lo sviluppo di prodotti o servizi adatti alle esigenze del mercato la determinazione dei prezzi appropriati la distribuzione efficace la promozione attraverso varie forme di comunicazione queste sono delle operazioni che può fare anche il piccolo negozio con l'aiuto naturalmente di un consulente in sostanza il marketing mira a creare valore per i clienti e a costruire relazioni durature con loro significa praticamente che qualunque attività commerciale deve andare per poter aumentare il fatturato deve andare a cercare la propria clientela stimolarla con offerte e con promozioni e fare in modo che questa clientela frequenti di più l'attività una volta stabilito il significato della parola marketing bisognerà incominciare a fare delle delle operazioni di leva per dare una smosta all'attività che in questo momento è in una situazione statica la prima operazione di marketing da fare per avviare una buona campagna pubblicitaria è la ricerca di mercato ben approfondita c'è uno studio del territorio è una ricerca di mercato significa anche andare a scovare la concorrenza andare a vedere che cosa c'è intorno a noi e come si muovono i nostri competitor questo coinvolge la raccolta e l'analisi di dati e informazioni pertinenti sul mercato del riferimento compresi i bisogni e i desideri dei clienti le tendenze di consumo i comportamenti degli acquirenti e le attività dei concorrenti la comprensione approfondita del mercato permette di identificare il pubblico target scegliere canali pubblicitari più efficaci e sviluppare messaggi pubblicitari pertinenti convincenti in sostanza la ricerca di mercato fornisce una solida base su cui costruire una campagna pubblicitaria di successo quando parliamo di campagna pubblicitaria dobbiamo stabilire con il nostro cliente il budget che l'azienda metterà a disposizione quel consiglio che io posso dare è che la pubblicità è una cosa molto importante e non è al di meno di quanto può essere l'investimento fatto nell'immagine nell'arredamento nella location dell'attività quindi il budget è molto importante perché servirà insieme a tutte le altre cose a un momento infatturato il budget per una campagna pubblicitaria può variare notevolmente a seconda di diversi fattori tra cui l'industria di riferimento l'obiettivo della campagna il target di riferimento la portata geografica e molti e molti altri condizioni non c'è un importo fisso che sia universalmente applicabile a tutte le situazioni quindi è una cosa da prendere in esame e decidere fra il consulente e colui che si occupa della direzione pubblicitaria o direttamente con il titolare dell'impresa tuttavia è importante che l'azienda dedichi risorse adeguate alla campagna pubblicitaria in modo da poter raggiungere i propri obiettivi di marketing molto velocemente in generale molte piccole e medie imprese potrebbero iniziare con un budget pubblicitario più limitato e poi aumentarlo gradualmente in base ai risultati e il ritorno sull'investimento fatto una consulenza da parte di esperti nel settore potrebbe aiutare a determinare un budget appropriato per una specifica campagna pubblicitaria quindi il mio consiglio è quello anche di mettersi in contatto personalmente anche con me che sono un consulente pubblicitario per darvi una mano anche nello stabilire il budget da spendere bene una volta stabilito il budget la domanda classica che ci viene rivolta sempre a noi consulenti è quella ma quanto tempo ci vuole per vedere i risultati il tempo necessario per vedere i primi risultati di una campagna pubblicitaria dipende da vari fattori tra cui il tipo di campagna il canale pubblicitario utilizzato il pubblico di riferimento e la durata della campagna stessa in alcuni casi i risultati possono essere immediati soprattutto se si tratta di annunci online o promozione a breve termine tuttavia per campagne più complesse a lungo termine potrebbe essere necessario un po più di tempo per valutare l'impatto e misurare i risultati in generale è importante avere pazienza e monitorare costantemente le prestazioni della campagna pubblicitaria apportando eventuale ottimizzazione in base ai dati racconti ecco mi raccomando che quando si decide di fare dell'operazione di marketing e fare delle campagne pubblicitarie di avere pazienza perché i risultati arriveranno e questo è una cosa che dico a tutti coloro che magari non hanno mai fatto pubblicità e che decidano per la prima volta di fare pubblicità quando i fatturati sono in calo ecco allora sono già nervosi perché vedono un calo di fatturato non hanno mai fatto pubblicità e quindi pretendano che i risultati arrivano subito non è così ci vuole pazienza come in tutti i lavori bene cari amici siamo arrivati al termine della nostra prima puntata abbiamo fatto un'introduzione e io vi do appuntamento al prossimo lunedì sempre alla stessa ora sempre sul mio canale youtube eventi live andate a ricercare le puntate del podcast marketing pronto marketing un caro saluto da sandro schiariti e seguitemi perché cercherò sempre di darvi una mano per lo sviluppo del vostro business ciao